Ciao ragazze, oggi video haul dei prodotti degli ultimi acquisti da Essence, ho cercato di acquistare i prodotti diciamo novità dell'ultima collezione permanente, vi faccio vedere, partiamo dai primi tre produttini che ho acquistato, i prodotti che ho acquistato sono questi ombretti in gel, in questo tubetto, ero molto molto curiosa di provarli, di acquistarli insomma e sono questi tre, vi dico i colori che ho io, io ho il numero Indian Lifestyle che sarebbe praticamente un rosato e sarebbe questo qui il centro, poi ho acquistato lo 02 Brazil Sunset ed è questo bronzo bellissimo, è veramente molto molto bello, non so se riuscite a vederlo, e poi infine lo 06 UK Season Age che sarebbe questo qui, è tipo un tortora con dei riflessi lilla, bello, anche questo è molto bello, dei tre quelli che mi piacciono di più sono il primo e l'ultimo, poi un altro prodotto che ho acquistato è il nuovo illuminante che sarebbe l'illuminante cream to powder, cioè in crema però una volta applicato dovrebbe essere più polveroso ed è questa qui, io l'ho sbocciata e sarebbe questa che si intravede, sembra molto molto delicata ma comunque dei riflessi mi piacciono, sono tendenti al dorato e mi piace un sacco, anche lì insomma vedremo come si comporterà. Altro prodottino che ho acquistato è questo rossetto, il numero 13, il numero 14 se lo si vede, il numero 14, che sarebbe un rosso fragola, vi faccio vedere il colore, si è un rosso fragola e questo qua, sembra molto molto bello, davvero bello, questo si chiama Adorable Matte ed è, sembra veramente bello, non l'ho ancora messo, non l'ho ancora indossato, però io quelli nelle altre colorazioni li ho praticamente tutti, ho tutti i rossetti di essence di questa linea, me ne mancano pochissimi e devo dire che io li uso tantissimo e si comportano bene, insomma per quello che costano, quindi veramente bene ha i prezzi degli ombretti sulle 3 euro ovviamente, il rossetto 2 euro e 89 poi ho preso, c'era l'offerta acquistando insomma questo nuovo mascara con l'eyeliner in gel praticamente l'eyeliner veniva, insomma era gratis lo vendevano appunto insieme e io li ho acquistati tutti e due per provarli il mascara l'ho già provato, mi sembra non essere male l'eyeliner non ancora io non amo molto l'eyeliner in penna perché secondo me, soprattutto quelle di essence che non è che siano chissà quale qualità sembrano essere non scriventi benissimo perlomeno scrivono un po' poi dopo svanisce subito insomma non hanno una durata eccelsa non sull'occhio ma proprio in genere proprio dopo un po' di mesi non scrivono più quindi non mi fanno impazzire però mi conveniva, l'offerta c'era e ne ho approfittato vediamo infine c'era la nuova collezione come to town e ho acquistato questi due prodottini ho preso il blush che sarebbe praticamente un blush in crema io l'ho preso nella colorazione rossa che sarebbe questa qui sinceramente ho provato a sbocciarlo non è in realtà sul dito guardate rossissimo però guardate si intravede ma è giusto insomma non è che voglio diventare un pagliaccio ho preso il rossetto non vorrei diventare un pagliaccio quindi mi va bene così io mi sono trovata bene le volte precedenti con i blush in crema di essence perché durano molto più di quelli in polvere quindi dovrebbe essere un ottimo prodottino e poi ho preso questo rossetto sempre della collezione come to town ed è la colorazione numero 01 it's that you santa che è più un rosso tendente neanche all'arancione un rosso più caldo rispetto al 14 che è più fragola vi faccio vedere accanto l'unica cosa mi sembra meno scrivente questo qui è vedete questo qui è più fragola questo è un rosso un po' più aranciato e sembra abbastanza carino quindi insomma li proverò e farò sapere come mi sarò trovata e nulla questi sono tutti i miei ultimi acquisti di essence spero di potervi fare una recensione più approfondita perché ovviamente questo è l'inizio l'ho appena acquistati e nulla vi saluto alla prossima ciao ciao ciao